Ciao a tutti amici e benvenuto a Ubaldo Scanagata, fondatore di UbiTennis. Ciao Ubaldo! Buongiorno a tutti! Grazie per essere qui. Allora, le cose da dire sono tante, le spezzettiamo in un paio di video per i nostri amici ascoltatori. Partirei dall'attualità non più strettissima perché il torneo di Monte Carlo si è concluso ormai da una settimana. Sei stato lì, ti ho seguito, ti abbiamo seguito in tanti. Grandi risultati, tra parentesi, sul canale UbiTennis di YouTube. tanto seguito, quindi vuol dire che è stato molto interessante quello che ci hai raccontato. Dacci qualche aneddoto, qualcosa che ti è rimasto da questa bella settimana di tennis. Ma quello di cui parlano tutti è il famoso episodio dell'arbitraggio, del punto sottratto a Sinner. e qualcuno riteneva che Sinner fosse stato o ingenuo, insomma, o troppo sportivo. Invece non c'entra nulla essere sportivi o non sportivi. Semplicemente quando Zizi Pass ha fatto quel doppio fallo che avrebbe portato Sinner ad avere un doppio break 4-1 nel terzo set, Sinner non ha avuto la prontezza lì per lì di dire, beh, fermo la palla come avrebbe fatto Zizi Pass. Zizi Pass ha detto che lui da quando gioca sulla Terra Rossa non si fida tanto dei giudizi, dei giudici in linea, ma dei propri e dice quando mi capita la palla vicino alla riga, se non sono convinto, la fermo. Diciamo che lì è stato sfortunato un pochino come ho scritto e come ho detto nei video, perché se Sinner avesse sbagliato la risposta avrebbe potuto immediatamente segnare il punto dove era cascata la palla e probabilmente spingere la signora arbitra francese a rivedere il proprio giudizio, intervenire, a fare un overrule. A quel punto Sinner avrebbe fatto il 4-1 che gli serviva e quasi certamente avrebbe vinto anche la partita. Quindi quello è quello di cui parlano tutti o hanno parlato tutti, dando responsabilità di disattenzione alla giudice in linea e anche al giudice in linea e all'arbitro. Di quella carattura perché comunque è anche un arbitro tra i più importanti del circuito, no? Certo, uno dei più importanti di tutti. Poi ha arbitrato anche Wimbledon, ha fatto cose importanti. Però a tutti può capitare di sbagliare, anche ai migliori, diciamo che non gli è stata quasi offerta però nemmeno la possibilità di intervenire, perché ormai il regolamento prescrive che non si possa rigiocare due volte lo stesso punto. Quindi se uno non lo ferma subito non può pretendere di finire tutto lo scambio e poi soltanto al momento in cui si accorge che lo scambio è stato perso, allora dirà ma prima il punto era mio. E su questo tema, per chiudere l'argomento, avevamo visto l'expload di Rublev, credo fosse a Dubai. Sicuramente il tema, diciamo, chiamate automatiche attraverso la tecnologia migliorerà questi aspetti, no? Sei d'accordo? Sì, certo, ora ci sarà questo, infatti, dall'anno prossimo tutti i campi, ma voglio vedere come faranno, però, perché non mi sembra così semplice, perché quando ci sono dei campi, insomma, tipo, dove ci sono 10-12 campi da mettere linee elettroniche su tutti, c'è un bel costo, ecco, e i tornei grossi lo possono magari sopportare, ma voglio vedere se gli ATP 250, che ne so, anche quello del Marocco, Marrakesh, riesce a mettere linee elettroniche su tutti i campi senza che questo incida pesantemente sul proprio bilancio. Certo, ma ci sarà un, diciamo, un ricarico anche sui biglietti e su tutto quello che riguarda il tema, insomma. E già i biglietti cominciano a costare tanto, perché ormai siamo in una situazione in cui se una famiglia vuole andare al circolo spende 1000 euro, insomma, per una giornata importante, se possiamo in quattro persone, diventa una cifra molto importante.